Un premio prestigioso che l'ha particolarmente resa felice? Anche nei termini, su cinque termini che si possono usare in italiano, per il dialetto ce n'è uno solo e quindi è anche più difficile, però mi sembra di capire che Pasolini sia l'autore per eccellenza, assieme a tanti altri, per la valorizzazione del dialetto. In questo caso mi è stato assegnato un premio per la miglior poesia dialettale, quindi credo, motivo di orgoglio, tra l'altro ci tengo a ribadire per Fano Tutta, in quanto quando vieni premiato all'atto della consegna bisogna indicare luogo, le assonanze che vengono ascoltate dalla platea e quindi di conseguenza è un portare Fano in giro per l'Italia. Ed è questa la maggior soddisfazione anche.